Colpo di scena clamoroso a Coverciano. Qualche minuto fa il CT Frandelli ha diramato la lista degli ultimi 23 che andranno a Brasile 2014 insieme al 24esimo la riserva Andrea Ranocchia. Il colpo di scena si chiama Pepito Rossi, l'attaccante della Fiorentina. Al photo finish non riesce a salire sull'aereo che porterà i azzurri in Brasile per il mondiale. Fra 14 giorni l'esordio a Manaus contro l'Inghilterra. Rossi paga i sei mesi di infortunio durante lo scorso campionato nonostante avesse recuperato un buono stato di forma nella parte finale del campionato e avesse giocato titolare l'amichevole contro l'Irlanda a Londra il 31 di maggio. Oltre a lui resta a casa anche destro, convocato a sorpresa Lorenzo Insigne che ha convinto il CT Cesare Prandelli grazie alla sua duttilità tattica. L'ex pescaresi Insigne volerà in Brasile insieme agli altri due ex pescaresi Marco Verratti e Ciro Immobile, i tre protagonisti assoluti due stagioni fa della promozione dalla Serie B alla Serie A della Pescara di Zeman.